Nel nostro gruppo, what up, sexy and clap, c'è anche da tantissimo tempo Angelo, un bravo ragazzo, un ragazzo tranquillo che ama la sua amata, Cecilia, terra splendida e piena di grande storie e piedarte. Lui va a scuola, lui sa che è molto importante, gli piace anche andare a messa in oratorio, perché è un bravo ragazzo, bisogna credere in questo mondo con pochi valori, ma lui piace, e Michiko gli vuole bene. Lui è un canale, Youtube, ed è molto bravo a giocare nei play di motori, fra cui GT Sport e non solo, ma sa che il suo presente, il suo futuro è altro, e lui fa bene. Così si deve fare, e li vogliamo bene, Michiko è contento di vederlo in live, quando ovviamente può, lui. E' un ragazzo tranquillo, sincero, ma anche deciso e convinto di quello che fa, è proprio così che si deve fare. Bravo ragazzo, anzi ragazzo, a moto. Mi amano anche chiusa a fare i sogni, che fa bene ad averli, perché senza di essi non si è nessuno. Bravo angelo, così si fa, sì, così si fa. Bravo ragazzo, anzi ragazzo, anzi ragazzo, anzi ragazzo, anzi ragazzo.